In questo caso, io ne approfitto, lascio l'angolo a 120 gradi, perché? Perché mi porto ancora più in basso dove troviamo posizione flangia. Ecco, qui troviamo i parametri per regolare la posizione della flangia rispetto al punto di attacco. Ecco, se vogliamo regolare la posizione della piega rispetto al punto di attacco. Guardate, lo mostro subito, la posizione di default ci indica materiale interno. Infatti, guarda un po', qui vado ad ingrandire ulteriormente, in questo momento lui sta ponendo tutto il materiale, quindi l'ulteriore spessore da 2 mm, all'interno di questo bordo, quindi dei confini della parte in lamiera. Sta mettendo tutto all'interno. Diverso è, se io gli chiedo, guarda, lo spessore, mettilo all'esterno. Eccolo qui. Quindi, vedi, se io qui andassi praticamente a estendere questa linea interna, effettivamente lui lo spessore me lo sta mettendo tutto all'esterno. Oppure, ancora, possiamo decidere di mettere non solo lo spessore all'esterno, ma anche la piega. Guarda un po' come cambia. Infatti, questo è il termine del nostro corpo in lamiera. E lui che cosa fa? Da qui parte, aggiunge la piega più tutto lo spessore. O, in alternativa, la quarta modalità per posizionare la frangia è la piega dal virtual sharp. Eccola qui. Infatti, vediamo quanto sta rientrando all'interno. Che cosa significa? Che il centro della piega cade sul virtual sharp del prolungamento dei bordi interni. E poi, in ultimo, abbiamo tangente alla piegatura. Infatti, vediamo che la parte, eccola qui, la parte terminale del corpo, in questo momento, ecco, è tangente alla piega. Quindi, sta a significare che la massima estensione di questa parte in lamiera resterà sempre 200 mm e verrà misurata sulla tangente alla piega, che è diversa da questa condizione, come stai vedendo, dove noi qua andiamo a mettere non solo la piega, ma anche tutto lo spessore all'interno. Ecco, come stai vedendo, abbiamo tre combinazioni per definire la lunghezza della flangia, e quindi dove prendere la quota, e cinque diverse modalità per posizionare la flangia rispetto al bordo che abbiamo selezionato. Addirittura, abbiamo la possibilità di regolare il punto di partenza della piega rispetto al bordo. Perché dico questo? Perché abbiamo un'opzione qui chiamata offset. Quindi, se io attivo l'offset, come stai vedendo? Ecco, io ho la possibilità, guarda un po', di definire un offset addirittura con delle condizioni, cieco, fino al vertice, fino alla superficie, offset dalla superficie, per, come stai vedendo, ecco, io posso gestirmi un offset, quindi posso anche allontanarmi o addirittura fare il contrario, guarda. Posso rientrare. Quindi, se devo apportare delle modifiche alla parte che magari ho già progettato, posso intervenire, ecco, l'offset torna molto comodo per fare degli aggiustamenti. Eccolo qui, posso intervenire con questo. Ora, lo disattivo, e a questo punto, guarda un po', giù in basso, Solidworks ci dà anche la possibilità di rivedere il criterio di calcolo e il tipo di scarico. Quindi, che cosa significa questo? Infatti, vedi, in questo momento mancano i segni di spunta e qui riporta, non a caso, personalizzato, tipo di scarico personalizzato. Ecco, questo aspetto è molto interessante perché ci consente di intervenire localmente e modificare, ad esempio, lo scarico, oppure cambiare il tipo di criterio di calcolo, in quanto la piega in questione ha un raggio più ampio e il criterio di default che abbiamo impostato non contiene magari un valore in tabella idoneo al calcolo dello sviluppo. Per cui, io devo passare, magari solo e soltanto per questa piega, ad un altro criterio. Magari, anziché il fattore K, mi devo prendere la banded action per calcolare bene quanto vale la piega distesa. Quindi, ci tengo, questi qui, ecco, gli attivo. Ci tengo proprio a mostrartelo che Solidworks ci dà la possibilità, eventualmente, di personalizzare solo e soltanto per una piega specifica il limite di tolleranza e quindi i criteri di calcolo e la tipologia di scarico. A questo punto, questi li disattivo, torno a 90 gradi con la mia piega perché la devo finalizzare, non metto neanche l'offset e vado a gestire. Io voglio che sia, ipotizzo, voglio che sia dinamica rispetto a questo vertice. Lascio gli altri valori di default, non tocco nulla. E voglio mostrarti un'ulteriore possibilità offerta dalla flangia del bordo. Se ricordi ti dissi che questa funzione è estremamente potente, è estremamente flessibile. Infatti, devi sapere che, oltre a poter controllare tutti questi parametri, possiamo modificare la geometria esistente. Cosa voglio dire? Non necessariamente noi dobbiamo avere la piega a tutta lunghezza del bordo e non necessariamente l'estensione deve essere regolare. Quindi il bordo deve essere parallelo a quello che abbiamo selezionato. Cosa voglio dire? Qui in alto troviamo il tasto Modifica profilo della flangia. Ecco, se attivo questo tasto, guarda un po' che cosa fa Solidworks, automaticamente passa, guarda un po', passa in modalità di schizzo, ce ne stiamo rendendo conto anche dalle funzioni di schizzo che ci ha attivato qui sopra. Ecco che, nella modalità di schizzo, io ho proprio la possibilità di modificare il profilo. E se ricordi, dalla slide, questo lembo di lamiera deve avere un profilo semicircolare e non a tutta lunghezza del bordo, per cui questa modalità mi dà la possibilità di intervenire sullo schizzo. E qui, cosa vado a fare? Ad esempio, posso fare una cosa di questo tipo. Vado anzitutto a ridimensionare a mano i bordi. Il bordo superiore me lo converto per costruzione. Perché? Perché qui andrò a mettere, ad esempio, un arco tangente. Eccolo. Vado ad aggiungere a questo punto le quote. Ad esempio, questo con questo li voglio a 30 mm. Questo con questo deve essere simmetrico a 30 mm. E poi, questo che poi identifica anche il centro della semicirconferenza, rispetto al bordo di attacco, lo voglio a 30 mm, o quantomeno lo spessore interno della lamiera. Ed ecco che lo schizzo è totalmente definito. Fatto ciò, guarda un po', qui abbiamo due tasti. Io posso chiudere la funzione che sto utilizzando, quindi la flange del bordo, o addirittura posso tornare indietro. ed ecco che lui mi mantiene, eccola qua, mi mantiene la nuova geometria che ho definito per questa flangia e mi consente eventualmente di rivedere i parametri prima di confermare. Beh, io in realtà devo confermare, non devo fare null'altro, quindi confermo ed ecco che la nostra parte in lamiera prende sempre più forma e tra l'altro qui, avendo ridotto le dimensioni, anzi mi metto in vista normale, avendo ridotto le dimensioni di questa flangia, ecco che Solidworks ha applicato automaticamente lo scarico. Lo scarico alle due estremità della piega.